Musica Conferenza stampa del tecnico del Prato Maurizio Ridolfi alla vigilia della partita del derby con l'Aglianese in programma al Germano Bellucci domenica prossima. Il Prato riparte dopo il pareggio casalingo con il Mezzolara per 0-0 affrontando un'Aglianese che ha il vento in poppa perché viene dalla vittoria nel derby con la Pistoiese. Una partita quindi difficile contro una squadra che come il Prato però è molto rinnovata. Sì andiamo ad affrontare una squadra che sta attraversando un momento importante perché vengono da tre vittorie di fila senza subire reti e l'ultima addirittura nel derby a Pistoia. Quindi sappiamo le problematiche che ci possano essere dentro la partita però sicuramente avranno dei punti deboli anche loro. Cercheremo di sfruttarli anche perché i ragazzi stanno tutti bene, si stanno allenando bene. Quindi sono convinto che andremo a fare una bella partita ad Aliana con la convinzione giusta di portare a casa un risultato importante. Rispetto alla partita con il Mezzolara le notizie positive arrivano dall'infermeria perché abbiamo visto che in settimana si sono nuovamente allenati con il gruppo. giocatori come Gori, come Bigonzoni, come Santarpia. È vero che manca lo squalificato Angeli però torna a disposizione Monticone e allora l'unico assente è il capitano Cela. Quindi la possibilità di scegliere su una rosa molto ampia, tra l'altro rinforzata anche da due nuovi arrivi, oggi i tesseramenti di Cecchi, Ex Empoli e Ceccherini, Ex Arezzo. Insomma l'imbarazzo della scelta. Sì, in confronto a domenica, in pratica a domenica scorsa c'è l'imbarazzo della scelta. I tre attaccanti diciamo si sono recuperati anche se no al 100% ma insomma fanno parte del gruppo che andrà ad Aliana e Monticone sostituirà Angeli. Ora vediamo come lo schieramento che faremo però insomma in confronto a domenica scorsa ho più varianti a disposizione. Vediamo che modulo si sceglie però dai, le idee sono abbastanza chiare. L'Alianese come vuole Baiano approccerò alla gara molto aggressiva, una squadra che pressa alta, una squadra che cerca anche la profondità. Hai delle contromosse già pronte? Ma ora vediamo le contromosse, sì, l'idea delle contromosse ci sono. Abbiamo visto la partita dell'Alianese sia a Pistoia che con l'Emolese. È una squadra fisica, una squadra forte appunto fisicamente, si aggredisce, attacca la profondità. Però insomma sono convinto che ci faremo valere. E il derby tante volte si dice basta la parola, però questa volta la parola servono i punti perché la situazione di classifica è pericolosa, bisogna uscire dalle sabbie mobili della zona play-out. Quindi derby basta la parola però servono i punti. Sì, il derby è importante, però sono tutti importanti perché danno tutti e tre punti. Noi in questo momento abbiamo necessità di fare dei risultati consecutivi, di dare punti alla nostra classifica per uscire nel miglior modo possibile nel più breve tempo da questa situazione e non lascia tranquilli. In sala stampa anche il collega di Prato Reis, Roberto Nardi, la sua domanda a Mister Ridolfi. Allora, domenica scorsa dopo la partita appunto parlavamo di un Prato che era mancato soprattutto in fase offensiva. Ora recuperi diversi giocatori nel reparto offensivo, quindi probabilmente vedremo un Prato diverso nel settore offensivo. Innanzitutto spero di vedere un Prato diverso nel senso che si fa gol perché l'altra settimana in pratica è vero è finita 0-0, c'è stato tanto disfattismo, però poi alla fine io ho rivisto la partita. È stata dominata, siamo mancati veramente soltanto nelle conclusioni. Abbiamo lavorato settimana appunto sul reparto offensivo, recuperiamo dei giocatori importanti, quindi sono fiducioso che questa settimana dall'Ana ci sia un reparto offensivo più concreto. Ci vuole più cattiveria là davanti perché forse è quello che manca al Prato maggiore possibilità di concretizzare perché si fa un gran giro palla, si domina la gara ma manca colui che la butta dentro, il graffio vincente, quello che fa la differenza. Sono d'accordo, l'ho detto l'altra settimana a fine partita, c'è mancato soltanto il gol, c'è mancato la cattiveria sottoporta, ne abbiamo parlato anche con i ragazzi. In fin dei conti noi dieci giorni siamo insieme, ci vuole un po' di tempo ma io sono convinto che già da domenica prossima si possa migliorare sotto tutti gli aspetti. L'ultima domanda riguarda i tifosi, arriveranno in massa ad Agliana perché ci sono già indicazioni riguardo gli Ultras e comunque la tifoseria organizzata che sarà presente al Germano Bellucci-Dagliana. Un messaggio per gli Ultras che nonostante la situazione continua ad essere vicino alla squadra? Il messaggio è quello che la squadra darà tutto per riuscire a dare una soddisfazione ai tifosi oltre che per la classifica. Per noi è un motivo d'orgoglio essere rappresentati da questi tifosi, daremo tutto cerchendo di fare una vittoria importante, soprattutto per i tifosi. Grazie per la visione!